Anche per il prossimo anno scolastico a Caggiano si porterà avanti il progetto Mensa a metro zero e zero rifiuti che vede il comune tra le esperienze positive a livello nazionale puntare sul chilometro zero nel menù offerto alle scuole. I prodotti locali, patate, ceci, fagioli, olio extravergine, passata di pomodoro vengono consegnati dalle stesse famiglie dei bambini fruitori del servizio di Mensa scolastica. È stato così creato un circolo virtuoso basato su una moderna formula di baratto che consente alle famiglie di scambiare i prodotti del proprio orto con le quote del servizio a proprio carico, avendo la certezza della qualità di ciò che i propri bambini mangiano a scuola. E in questo periodo i genitori degli alunni stanno consegnando il pomodoro di produzione propria per la trasformazione in passata da parte del laboratorio locale autorizzato. L'obiettivo principale, assicurano dall'amministrazione, è sempre quello di fornire agli studenti alimenti di migliore qualità, contenendo, attese le condizioni di crisi economica che colpiscono le famiglie, il costo sia del servizio che del ticket Mensa e nel contempo educarli ad una sana e genuina alimentazione. Nato come una sfida coraggiosa, il progetto è diventato realtà consolidata da ormai 13 anni e una felice esperienza presa a modello da altri comuni. Lo scorso anno è stato anche affiancato da un'altra interessante iniziativa, ovvero l'introduzione nel menu scolastico dei cosiddetti PAT, i prodotti agroalimentari tradizionali. Così i piccoli delle scuole hanno mangiato una volta a settimana a rotazione il pasticcio, la soppressata, la pizza roce, la minestra con le polpettine. Le iniziative di Caggiano hanno spento così il dibattito sempre attuale che vede confrontarsi i sostenitori del pasto portato da casa a quelli del menu unico offerto dalla scuola. Famiglie e istituzioni stanno lavorando insieme nella consapevolezza che nella riflessione scolastica si trovano valori educativi per i piccoli, scelte etiche, azioni di propulsione per lo sviluppo del territorio. E tutta la comunità è coinvolta in una riflessione collettiva sugli stili di vita sani, sulla tutela dell'ambiente, sulla valorizzazione delle tradizioni gastronomiche locali.